che abbiamo cominciato il video abbiamo cominciato si oggi 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 faremo i cubi di rubik io contro di lui hide contro carolina ok vero mischia ok ragazzi vai mischiamo arriviamo a 2 si sa già chi è il vincisore cioè lui ok allora il mio record è 42 secondi il suo 44 quindi potrei farcela lasciate like iscrivetevi al canale e porteremo anche bruce stars viene ancora oggi ma io ho mischiato credo la tua morte deve usare questo è sì ma dobbiamo mischiare aspetta è troppo facile per te allora uso questo ok io uso questo si non ha senso aspetta aspezione ragazzi 3 2 1 via ho iniziato male portiamo bene allora cazzo c'è il nostro cugino c'è il nostro anson saluta il più intelligente al mondo e ha fatto il record di cubo di rubik ora non vuole perché ora è stanco sì mi hai letto nella mente e io sto andando male perché questo cubo è una verdina veramente stavo spando la pallude per cercare gli animali non è legato l'ho finito ragazzi guardate questo non è giusto ok cambiamo cubo adesso c'è un cubo sì comunque costa l'uno per uno che è scherzo sto cubo è troppo lento ma tanto anche io ho una roba del genere quindi non cosa farlo è di quello là bella questa mano eh un saluto a tutti i gamer a tutti i feed cuber cioè 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 gb boy ciao anson si 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 ok io ho già fatto la margherita la margherita vai la margherita la margherita ora aspetto la lumaca grazie per i due dai 3 2 1 via sono partito prima oh raga io voglio una penalità vero ragazzi tanto nessuno ti ascolta io ho sbagliato di nuovo oh ma voi siete guardate voi cioè voi pordo dobbiamo dicare un po un pordo tu hai capito tu hai capito no te no tu mi ce vai un cazzo io o te perché forse non cambiamo tutte e due no io ho sbagliato guardo cosa fa mi sei socio cosa vuoi scemo altra sconfitta ragazzi anche io ho sbagliato vaffanculo guarda cosa dici questo compleato di chi poi io auguri eh lui è dio e ragazzi no di poco credo che abbiamo il vincitore cioè io che l'ho già risolto vabbè ciao non pubblichiamo più questo